La politica si infiamma a Portogruaro, Angelo Tabaro risponde a Bertoncello, il servizio. Abbiamo invitato Angelo Tabaro, candidato del centrodestra, per chiedergli così un pensiero su ciò che ha detto il candidato del centrosinistra, Antonio Bertoncello, il maggior candidato del centrosinistra, che ha sostenuto come questa situazione, cioè questo impasse, questo ritorno al voto a meno di un anno dalle precedenti amministrative, sia un po' colpa del centrodestra perché si sarebbe potuto governare assieme. Lei cosa ne pensa? Beh, intanto era lui il sindaco e quindi chi è il sindaco è responsabile del governo, quindi parte questo. Ma poi c'è questa enfasi sul commissario che pare che dove, qui a Portogruaro faccia dei malanni incredibili e distrugge la città, ma a Concordia, in altre amministrazioni centrosinistra, guardiamo Bologna. Adesso Bologna è un sindaco di centrosinistra, si dimette, fa arrivare il commissario, ci sarà il commissario un anno e distruggerà Bologna? No, quindi mi pare che il tentativo di cercare altrove, limiti a iniziative, a incapacità di governo che erano proprie, non sia giusto. Anche perché il commissario le cose le ha fatte, le ha fatte a San Nicolò, le ha fatte in altre parti, quello che doveva fare il commissario lo ha fatto e i cittadini non ci hanno rimesso. Ecco, secondo lei dove si gioca la campagna elettorale? Su quali argomenti? Lei durante la presentazione nella sede del PDL ha parlato di vari argomenti, tra cui la Fondazione Santa Cecilia, ma ci sono cose più urgenti secondo lei? No, la cosa più urgente è lo sviluppo economico. Una città che non cresce è una città che poi ha come conseguenza delle cadute in tutti gli altri settori, compreso il settore della cultura. Quindi la prima cosa è far crescere economicamente il Portogruaro, farlo crescere anche demograficamente, quindi far sì che quella quantità enorme di abitazioni che sono vuote diventino abitazioni occupate da cittadini, da cittadini portogruaresi, da cittadini che in qualche modo siano chiamati a Portogruaro dal fatto che a Portogruaro si rilanciano le attività economiche. E quindi intervenire nel settore delle aree industriali, delle aree artigianali, rendendole appetibili, rendendole concorrenziali, eliminando quella burocrazia incredibile che ha allontanato in anni recenti i nostri operatori economici della città.